segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te che ci ha portato in quella situazione e lei poteva prendere anche delle posizioni maggio 2011 banca d'italia draghi dice la gestione del pubblico bilancio italiano è stata prudente le correzioni necessarie in minore e quelli degli altri paesi un mese dopo dice l'opposto dai cerchiamo di capire un contesto molto particolare nel quale la gestione del pubblico bilancio è stata prudente maggio 2011 e poi arriva la lettera dai del discorso quello che quello che mi però adesso interessa moltissimo perché abbiamo tre mesi davanti veramente complessi e guardare avanti e non tornare indietro per dire abbiamo imparato dagli errori e io lo spero lo spero non lo so guardare a guardare però sicuramente quello che è accaduto alcune alcune azioni ce la date la prima è che l'europa se vuole avere un senso deve recuperare l'idea di politica e sono d'accordo con professor tremonti quella di solidarietà perché è verissimo che siamo arrivati in un tempo nel quale purtroppo l'esperienza degli ultimi vent'anni ci insegna che le crisi sono strutturali e purtroppo sono devastanti hanno una portata disruptive non è finita quella del 2008 2009 siamo entrati nella pandemia non è finita la pandemia è arrivata la guerra e non è arrivata la guerra e noi abbiamo di nuovo un problema di relazioni con la cina che dopo un lockdown straordinario ha di colpo riaperto tutto e noi non sappiamo più come muoverci e allora l'europa nell'evoluzione che ha avuto e nel nostro discorso vorrei parlare anche di sure che è stato un fondo molto importante di ammortizzazione sociale nel corso della pandemia che ha consentito all'europa di intervenire anche tempestivamente io credo che l'europa può recuperare un senso finanziato a debito anche questo per questo lo menziono nel senso che secondo me è stato un esempio molto importante l'europa può riacquistare un senso solamente se diventa anche uno strumento che come diceva il professor tremonti concepisce un tempo di crisi è in qualche modo quello che ci dà un po di sicurezza e di continuità nel tempo di crisi e la mia sensazione è che da questo punto di vista dei passi in avanti sono stati fatti poi però si ritorna a livello nazionale la vera scommessa di questo governo e che cosa poi farà dei fondi del pnr perché in questo momento noi abbiamo le risorse la vera la vera scommessa sarà come riusciremo poi a metterla a terra come riusciremo ad utilizzarlo quindi un tempo di grande cambiamento è importante andare avanti piuttosto che discutere sul passato diceva a proposito di solidarietà mi è arrivata grazie a tutti